E bentornati e benvenuti qua ragazzi nel mio canale youtube come sempre prima di iniziare questo gameplay ti ricordo che in descrizione se vuoi puoi acquistare questo ma non solo tanti altri giochi scontati in descrizione in più ti ricordo i miei canali social e quant'altro Allora ragazzi siamo qui sulla mappa di edomod sbaffo farming in collaborazione con sbaffo farming e detto questo facciamo inizio così guardiamo insomma com'è la serie penso di farci una serie su questa mappa mi chiedo la gentilezza di lasciare tanti like che sono importantissimi per supportare il mio canale youtube mentre per voi è totalmente gratuito la supportazione non vi costa nulla Allora ovviamente edomod ci da il benvenuto in collaborazione con sbaffo farm in questa mappa tedesca nella deutschland facciamo ok come potete vedere qui la mappa a me almeno è fluidissima non mi da nessun problema ho inserito solo le mod al momento richiedenti da gioco per non appesantire troppo poi man mano ovviamente inserirò anche qualche mod Guardiamo anche i dettagli qui ben fatti con questa mappa con le lucine e tutto quanto con questa vietta che sale in questo diciamo capannile se così possiamo capannile non so questa chiesa tra virgolette poi magari voi se lo sapete me lo dite insomma Qui scendiamo ragazzi cerco di farvi un breve tutorial senza dilungarmi troppo anche se sarà un po' difficile perché è una mappa che va meritata studiata va vista rivista più volte perché veramente è tanta roba Ma io sento il volume del gioco basso ok ho alzato i volumi devo dire che adesso va meglio per me quindi vi faccio vedere ovviamente il pda della mappa Io penso che mi possa piacere come mappa perché comunque una mappa molto ben dettagliata come potete vedere qui qui ci sono diciamo la farm A la farm B e la farm C quindi ci sono più farm da quello che posso intuire Andiamo a vedere subito la carpenteria andiamo a vedere subito la carpenteria eccola qua una carpenteria ben fatta addirittura con i simboli per terra qua bello bello di qua voi entrate Qui penso che caricate poi magari non lo so perché la prima volta che la apro poi sicuramente giocandoci avremo modo di vederla meglio insomma qui abbiamo un campo dell'uva Ottimo interessante bello molto bello da qua entrate perfetto Poi abbiamo qui un vendita balle e anche un mercante delle balle che andiamo subito a vedere devo fare tantissimi complimenti a Edo per aver strutturato questa mappa Che ci ha messo un bel po' però ne va a essere la pena perché è molto leggera non è pesantissima Cioè almeno per il mio pc avendo un pc datato faccio più fatica a portare la mappa Italia la mappa Emilia Italia quella di Edo sempre Che non questa perché questa è più leggera secondo il mio punto di vista poi magari c'è chi non la regge però io per il mio punto di vista devo dirvi Che la reggo senza problemi qua abbiamo una scritta burro burro di qua Ok bello anche qui con una vista che inquadra la fabbrica abbiamo anche le scrittine qua sopra Vm cammert Boh io ho il mio inglese vabbè cioè il mio tedesco non è che lo mastico molto bene Poi abbiamo il rifornimento dell'acqua che se me lo fa vedere da qua adesso vi faccio anche vedere Da qui andiamo anzi andate a rifornirvi l'acqua di acqua insomma tutte cose Poi correggetemi se dico qualcosa di sbagliato che magari non lo so Qui c'è il punto di acqua che non Ah no proprio è figurativo però guardate anche qua che spettacolo Con il mulino che c'è qui guardate che bello il mulino ragazzi Molto 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 ben curato raga molto molto ben curato L'ho portato un po' prima rispetto al sabato perché comunque è una novità E' una mappa che mi piace una mappa che vorrei giocare anche in live su twitch Adesso vediamo Però penso di giocare e stoppare un attimino le altre serie che stavo portando Su questo canale adesso vediamo in base agli impegni Poi andiamo a vedere l'agri land che mi sa che non l'abbiamo visto Eccolo qua l'agri land molto bella anche questa Complimenti ancora a Edo mod e quant'altro Anche qui c'è il treno che passa guardate come sono le texture ragazzi Le texture non so se poi dal video renderà ma comunque le texture sono fenomenali Devo dire cioè con i cartelli con tanto di precedenza Scritte quant'altro C'è una mappa che è veramente mi piace Veramente veramente ben fatta ben curata Ben tutto insomma è bello 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 Andiamo a vedere biogas che è la cosa un po' più importante diciamo Ecco qui il biogas che è molto ben curato anche questo Con tanto di capannone qui per scendere e salire Qui vi ricaricate con il liquame Vendete le vostre robe insomma tanto tanto di capello ragazzi Per questa fantastica mod Qui c'è l'entrata Poi qui c'è il biogas da ricaricare Qui scaricate insomma bello Poi andiamo a vedere anche il discorso benzinaio Distributore di benzina anche questo devo dire tanta roba Io mi sorprendo ragazzi perché è una mappa ben fatta Con tanto di prezzi di carburante Però ragazzi c'è tanto tanto di capello Adesso non per lusingare edo Ma ragazzi c'è veramente sono contento di questa mappa È una mappa che mi piace Anche qui lo shop ragazzi Da notare anche lo shop Adesso vediamo anche da dove ci spawna I mezzi che noi compriamo Quindi compra Vabbè lo compro perché tanto è uguale Non è un problema Poi andiamo a vedere anche i mezzi di default Che ci sono nel gioco Insomma che abbiamo Adesso qui anche qui dentro ci fa vedere Eccolo qui il mezzo che compriamo Mi spawna qui Eccolo qua Perfetto Poi andiamo a vedere il negozio L'abbiamo visto la latteria La latteria ambulante Se non ci viene Se è ignorante Ah chi l'ha capita Questa è per pochi ragazzi Però vabbè Qui entrate Ricaricate Penso a me però manca una roba Che vediamo se riesco ad attivare Ok ho trovato anche qua Che mancava per l'appunto Inputare Asal C'è mancava anche questa roba Che mi sono dimenticato Ahimè perché quando Che faccio le copertine Alle volte Mi dimentico Comunque un bel pda È bello grande Anche per giocarci multiplayer Va più che bene Perché da singolo Sì Però anche da multiplayer Tanta roba Ma adesso Andiamo a vedere Se ci sono culture nuove Andiamo subito a vedere Come potete vedere qui Di culture nuove Ce ne sono 3 4 Segale verde Farro Segale Uva bianca E basta Poi come fabbriche Ne abbiamo Abbiamo il vino rosso Vino bianco E segale Andiamo a vedere i mezzi Prima di concludere Che purtroppo Già vedo che tempo Sta volando via Abbiamo questo Deus Molto carino Abbiamo questo MB track Molto bello Anche questo Un'imballatrice Ok Poi abbiamo Il discorso Forche Non forche Falciatrici Rirondinatore Questo penso che Parle balle Se non vado errato Ma io non ho visto Se ci sono Animali Questo è per dormire La nostra casa Diciamo che è questa Qua vi aprite la porta Guardate anche la porta Come sono curate Anche le texture Io non ho preso Le texture hd Ma penso di prenderla Adesso vediamo Però devo dire Ragazzi Che è tanta roba Anche qua Qui abbiamo Un altro punto Vendita Mi sa Vediamo che cos'è Boh Non lo so Che schissè On the fish A noi siamo qua Noi partiamo da qua Perfetto Difficoltà Facile Questa è la farm Ah partiamo dalla farm Andiamo a vedere anche Silos Che da qui Scaricate Caricate Da Vediamo da dove Caricate Perché non lo so Vediamo Prima di fare Figuracce Vediamo da dove si carica Questo si apre Bello anche le porte Che si aprono Così ragazzi Molto interessante Però non capisco Da dove Ah sempre da qua Si carica e scarica Da qua ragazzi Cioè voi scaricate E caricate da qua Tanta tanta roba Poi andiamo a vedere Che cosa Direi che abbiamo Visitato tutto Ragazzi Sì che non abbiamo Visitato Il discorso Ok ragazzi Allora ho dovuto Ricaricare la partita Boh non so Per quale motivo Però Comunque qui abbiamo Anche un discorso Pollaio Bello anche Sto pollaio Che adesso Se mi riesce Vediamo se riesco Comprarlo Costa un po' troppo Mi faccio dare Un po' di soldi Ok Eccolo lì Perfetto Intanto qua Vabbè mi parte Uno screenshot A caso Vediamo se riesco Comprarlo Per vedere meglio Il pollaio Ci da anche 48 insieme Eccolo qua Voi ricaricate Da qua Comprate le galline Adesso le compriamo Anche così vediamo Tutto quanto Compriamo 60 galline Così tanto per Adesso vediamo Anche da dove Vanno Eccole lì Che sono lì per terra Sarebbe stato bello Poter entrare Ma non lo so Perché non si può Entrare Forse da qualche parte Sicuramente Si può entrare Comunque da qui Voi date da mangiare Diciamo con il mello Date da mangiare Qui sopra Quindi una mappa Molto movimentata Vediamo se da qui Mi fa aprire Eccolo qua Da qua mi fa aprire Guardate che spettacolo Anche le ernie Del gallo Qui vi spawnano Il vostro mangiare E poi le galline Andranno successivamente A dormire Giustamente un po' Per simulare la realtà E tutte cose Quindi niente Io ho visto solo questo Come animale Poi non ho altro Da farvi vedere Se non Il famoso Punto Di erba Qua dove ci sono Gli alberozzi Da tagliare Questa è la zona Diciamo così Boschiva Dove voi potete tagliare E penso anche poi Futuratamente Costruire Ovviamente ci sono tante legne Che con un po' di pazienza Le buttate giù Quindi niente ragazzi Io direi che Per il momento Mi fermo qua Non c'è altro da dirvi Se non ringraziarvi Per essere arrivati Fino qua Adesso andiamo a vedere Vorrei rivedere Questo discorso qui Dell'acqua Tanto voi potete già Sentire la sigla Ecco qua Infatti come vi dicevo Prima ragazzi Qui potete ricaricare L'acqua Ok raga Quindi niente Io non Non so cos'altro Dirvi Se non ringraziarvi Per essere arrivati Quino qua Se avete Consigli Dubbi Domande Non esitate a Commentare Per l'appunto Io per il momento Mi fermo qua E niente ragazzi Alla prossima Lasciate un bel like Cuzzo Che è gratis E non si paga Hashtag Laicuzzo Ciao Ciao a tutti Ragazzi Ciao a tutti